Come ha detto, non mi ha capito. Perché c'è ancora? Senta dottore, non basta. Non basta? Eh no. Ma è che la dice? No, no, non ci siamo. Ma se l'ho ringiovanito di 40 anni. Sì, va bene dottore, ma non è questo il punto. Io le dissi e volevo cambiare, si ricorda? Così dimostro 50 anni. Io voglio dimostrare, faccia conto, 20 anni. Ma scusi dottore, non si può fare il trapianto della testa? No, non è ammesso dalla Costituzione. Di questo lei non si preoccupi. Lei prepara il laboratorio. Io intanto finisco di fare delle telefonate e poi vengo lì. È chiaro? Pronto, c'è l'ispettore Derrick? Sì, sono io. Senta, ispettore, mi era venuto in mente di cambiare la Costituzione italiana. Così, tanto per cambiare. Però io non ci capisco nulla. Lei invece è un uomo di legge, che me la darebbe una mano. Rieccoci dai soliti scherzi. No, non è una scherza, sono Berlusconi. Sì, io sono Schwarzenegger. Sì, io sono Schwarzenegger.